Buon pomeriggio, lo vedete, vento molto forte ma reagitato in queste condizioni meteoproblematiche. Si sta dirigendo verso Salerno la nave Ocean Viking. Dovrebbe arrivare qui al Molo 22 domani mattina. Intanto, lo ricordiamo, i 92 migranti sono stati soccorsi a largo della Libia in acque internazionali. Erano a bordo di un gommone sgonfio. Stamattina qui a Salerno, vertice in prefettura, per organizzare la macchina dell'accoglienza. Vediamo queste interviste e poi la linea torna allo studio. Ci sarà la parte iniziale che è quella del controllo sanitario, anche con il tampone per i Covid. Dopodiché, dopo anche un passaggio per rifocillare i migranti che arrivano dalla nave, loro saranno portati in un altro luogo della città per l'identificazione. E nel corso della giornata di domani poi saranno destinati, dove dovranno poi essere accorti successivamente. 41 minori non accompagnati, non è semplice individuare un luogo che li accolga? Sì, noi abbiamo, normalmente ci sono dei centri per minori non accompagnati, che sono per l'Italia, ma ce ne sono anche nella nostra regione. Noi stiamo verificando appunto queste possibilità. Quanti uomini dell'ASL in campo da domani mattina? Dunque, noi abbiamo una decina tra medici e infermieri in campo con le nostre strutture. In più, ci utilizziamo i volontari della Croce Rossa, che tradizionalmente è la prefettura attiva ogni volta che ci sono questo tipo di sbarchi. Diciamo, in genere, il dispositivo sanitario è su circa centinaio di persone.